Salve a tutti, buongiorno, vorrei augurare buona Pasqua a tutta la nostra comunità, a tutte le nostre famiglie, a tutti i nostri pensionati, ai nostri giovani, a tutti coloro quali sono in pena per questo momento, dicendo che se ci impegniamo tutti a fondo questo tempo che ci sembra a noi che abbiamo perso, invece lo stiamo investendo nel futuro e lo stiamo investendo perché si possa al più presto ripartire. Il mio pensiero va ai nostri pensionati, ai nostri giovani, alla comunità scolastica che ce la sta mettendo tutta, ragazzi e insegnanti che si stanno impegnando fortemente nelle lezioni online perché quest'anno non lo vogliono perdere. È un grande lavoro che vi giuro sto seguendo e devo dire che li ringrazio. Ringrazio soprattutto i ragazzi che stanno soffrendo questo momento perché non possono giocare all'aperto. Sono stati privati di spazi importanti per la loro crescita e spero al più presto di poterli rivedere e di poterli in qualche modo vedere giocare insieme al più presto. Stamattina sono passato in ufficio anche per la nostalgia perché ormai siamo da oltre un mese con la chiusura totale e sentivo la necessità di passare, di vedere le ultime collocazioni, le ultime email. Sono salito all'ultimo piano dove si vedeva tutto il nostro territorio, tutte le nostre frazioni. Lì mi sono accorto davvero di quanto mi mancate e di quanto ci mancate perché non incrociare più il vostro sguardo e non ascoltare più le vostre richieste e suggerimenti. E' davvero diventato una cosa inusuale, segno di questo brutto periodo. Ora ci dobbiamo impegnare ancora di più. E' stato prorogato al 3 maggio la chiusura e ancora del restare a casa lo dobbiamo fare. Approfittiamo di questo periodo per programmare la fase 2, la fase quella del lento rientro alla normalità dove uffici pubblici, attività produttive possano riprendere in sicurezza la loro attività. Ogni posto di lavoro deve essere tutelato e deve essere il più possibile salvaguardato dalla possibilità di contagi. Per questo abbiamo pensato anche la prossima settimana di cominciare a distribuire mascherine per tutta la comunità, per tutti i cittadini, un minimo dispositivo. Poi magari potremo e potrò fare l'ordinanza di obbligare tutti a indossarli, però prima ci vuole il messaggio pubblico della consegna, della distribuzione gratuita a casa delle mascherine. Per questo ringrazio tutti i volontari che ci stanno dando una mano e tutti i dipendenti comunali che non si tirano indietro e quotidianamente affrontano insieme a noi amministratori questo terribile momento. Ma è un dovere per noi farlo ed è un gran piacere farlo in questo modo e in questo periodo. Belli sono stati i messaggi che i nostri tre parro ci hanno inviato alla nostra comunità, Don Ennio, Don Emidio e Don Igor. Un messaggio di fede e di speranza, un abbraccio particolare a Don Igor nella speranza di averlo presto in forma tra noi. Buona Pasqua, buona Pasqua a tutti, mettiamocela ancora tutta, facciamo uno sforzo. Il rientro alla normalità è previsto, ma dobbiamo continuare ancora a impegnarci. Lo stiamo facendo bene, continuiamo così, le grigliate del giorno di Pasquetta facciamole negli spazi, nei nostri giardini per chi ha la fortuna di averli, oppure facciamole sul balcone. Tanto non fa niente, c'è possibilità di pulire, però impegniamoci tutti nel restare il più possibile a casa. Vi abbraccio tutti, muoio dalla voglia di riabbracciare davvero ognuno di voi. Adesso è il momento ancora di stringere i denti. Buona Pasqua ancora!